salve a tutti voglio raccontarvi una brevissima storia una persona cara mi regalò anni fa una bellissima fata di ceramica che purtroppo dopo qualche mese cadde a terra andando in frantumi l'unica parte di lei che rimase intatta furono le sue splendide ali di metallo allora decisi per renderle omaggio che avrei realizzato con le mie mani una creatura fatata scolpita da me che avrebbe avuto l'onore di indossare quelle ali all'inizio creai una piccola statuina fissata ad un ramo di legno levigato che avevo raccolto sulla spiaggia ma non ero soddisfatta volevo darle maggiore importanza e così decisi di montare la statuina su una tela creando attorno a lei un paesaggio incantato utilizzando tantissime tecniche artistiche e materiali diversi per realizzare un vero trionfo di magia natura arte e bellezza è così che è nata quest'opera dopo mesi di lavoro modifiche e aggiunte finalmente oggi è esattamente quello che volevo ho creato per lei anche una degna cornice lavorandola con gesso cere e patine invecchianti per coordinare i colori e lo stile e così vi presento finalmente la mia amata titania la regina delle fate spero vi piaccia un saluto e un abbraccio dalla vostra esperia grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti. Grazie a tutti.